La questione Elio Coriano, non posso che dire, io mi rifuggo tra le mie cose, lascio a lui e agli altri i sentimenti poetici che questa sera avete qui declamato. Nel mio piccolo, nel mio libro di arte, ho scritto anch'io qualcosa, se mi permettete sono tre pezzi, contate anche i secondi, li voglio leggere. Così si racchiude un po' tutta la mia carriera pittorica, il perché si dipinge, il perché a volte ci si trova soli in una stanza senza aver bisogno, senza sentire nessun suono, aver bisogno della propria solitudine. Quella solitudine che non fa male, ma quella solitudine che dà il piacere di scrivere, di lavorare, di mettere in versi i sentimenti di ognuno. Ho lasciato il vento spezzare le mie inutili cose, ho lasciato l'acqua scorrere nei meandri del pensiero. Tutto è diverso in questo silenzio tra le spine di grano non maturo. Grazie per la vostra partecipazione.